Musica Usiamo una tecnologia che si chiama elettroadesione. In questo modo riusciamo a prendere oggetti di forme diverse, con un controllo molto semplice e senza il rischio di danneggiare l'oggetto. Politecnico di Bari, nel Dipartimento di Matematica, Meccanica e Management, una delle eccellenze riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Il Politecnico è una bellissima realtà che adesso sta diventando un hub di innovazione, non soltanto appunto di ricerca e educazione, ma anche di innovazione tecnologica. Lavoro con l'MIT di Boston, dove sto seguendo un team che sta sviluppando con me queste stesse tecnologie, con l'IPFL in Svizzera. Siamo diventati un polo di attrazione e di talenti esteri, oltre a cercare di mantenere quelli locali. Questo è il laboratorio di Tribodinamica, è lo studio del contatto, quindi adesione, attrito, usura. Questo laboratorio è stato finanziato grazie ai fondi del Consiglio Europeo della Ricerca, con un milione e mezzo di euro. Ho fondato questo laboratorio, ho fondato un mio gruppo di ricerca. È possibile fare ricerca di eccellenza anche in Italia. Ritengo sia l'unica arma per rendere nuovamente l'Italia competitiva a livello internazionale. Fondamentale per la ricerca è la collaborazione che si crea tra pubblico e privato. Esri Italia è un'azienda che produce software di geolocalizzazione. Noi rappresentiamo proprio il Digital Twin, cioè il modello digitale di un'infrastruttura, di un territorio. La città digitale ti consente di fare simulazioni, ma di gestire la città prima nel virtuale e poi nel fisico. Quanta ricerca c'è dietro a questo? Con l'Università di Tor Vergata abbiamo preso 100 ragazzi neolaureati e li abbiamo avvicinati alle nostre tecnologie. Alcuni di questi arrivano da quell'esperienza, alcuni sono stati assunti dalla nostra azienda, dalla nostra consociata e oggi sono diventati dei professionisti esperti del settore. Ma c'è chi guarda ancora oltre. Siamo nell'ex miniera di Sossenatos, nel nord della Sardegna, candidata ad ospitare l'Einstein Telescope, l'infrastruttura per lo studio delle onde gravitazionali. Qui abbiamo un livello sismico che è tra i più bassi in Europa e anche il livello di umore elettromagnetico è bassissimo. Ci permettono quindi di candidare il sito per ospitare l'Einstein Telescope. Sarebbe uno dei soli due siti del mondo in cui si ha un rivelatore di questo tipo. La ricerca italiana sarebbe una grande vittoria, una grande opportunità per tutti i ricercatori, tutti i giovani ricercatori. Chiaramente coinvolgerà tutti, coinvolgerà non solo professionalità scientifica ma anche ingegneri, geologi. Lei è sardo ma era andato all'estero. Ho fatto il dottorato a Oxford, poi sono un po' andato in giro, sono stato al CERN tanti anni. Ho scelto di tornare a casa perché questa è un'infrastruttura unica, che sarà unica al mondo.